Dai Sprite! Sprite! Pronto? Mamma? Cos'è successo? Arrivo! Dai, arrivo! Sprite! Perché stai andando lì, mamma? Dove sei diretta? Dovevi starmi vicina, mamma. Anche se ti ho sgridata, se sono stata impulsiva. Dovevi stare con me per proteggermi, per aiutarmi. Torna, mamma. Torna qui da me. Non lasciarmi sola. Pensavi potessi farcela con le mie sole forze, invece... Invece sono venuta qui. In questo posto silenzioso. Lontano. Ma cosa sono venuta a chiedere? Che cosa cerco? Forse solo comprensione. Mamma! O forse aiuto, non so. Però c'è un silenzio. L'aria mi opprime. Mamma, mi fa paura. Papà! Non la conosco. Tienimi la mano, mamma.